Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, rallentamenti e code a tratti in direzione sud, tra BV1 Variante e Badia, tra Arezzo e Chiusi, tra Aglio e Cisareggiello e tra Badia e Aglio, tutto per traffico intenso. La Firenze Mare resta un chilometro di coda per incidente tra Capanuri e Luca Est nella carreggiata in direzione di Pisa. Regolare al momento il traffico in Fipili. Ultima pagina per il traffico aereo, il volo Firenze-Francofort delle 18.40 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 19.40. Da Pisa il volo diretto a Parigi delle 16 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17.59. Il volo diretto a Marrakesh delle 18.30 alle 18.54. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e senza utilizzare il cellulare alla guida. Per ora è tutto, buon viaggio!